Disabili. Brasiello non ha mantenuto le promesse fatte al guerriero Sannita l'anno scorso quando siglò il patto con Giovanni Muccio per l'elezione a sindaco. Conferenza stampa del fondatore del movimento Aisernia. Sembre lungo via Campania dove il palo di un divieto di sosta, piantato al centro di un marciapiede, continua in perterrito a impedire il passaggio ai disabili. Io credo che ogni campagna elettorale, tutti quanti promettono di darsi da fare per le fasce più deboli, per i disabili, per i tosicodipendenti, per i poveri. Poi è finita la festa Gabbato il Santo. Noi ci ritroviamo qui dove un anno fa, insieme al sindaco Brasiello, abbiamo criticato l'amministrazione precedente. A distanza di un anno vedo che le cose non sono state cambiate e questo la dice lunga sulla riqualificazione urbana delle barriere architettoniche che impediscono il passaggio di tanti ragazzi che hanno questo problema. E anche mamme con le carrozzine. Giovanni Muccio, ma lei non è qui solo per questo palo in via Campania? Anche per altre questioni più importanti? Sì, oltre questo noi portiamo avanti sempre con il sindaco Brasiello, perché il sindaco Brasiello, la Sima del Guerrero, l'abbiamo fatto dalle conferenze stampe, anche per quanto riguarda i ragazzi tosicodipendenti, Arsert. Ormai sono centinaia i ragazzi che si regano Arsert. Dopo che gli abbiamo dato il metatone, che non è un'altra droga, non abbiamo fatto più nulla. C'eravamo impegnati a creare un locale idoneo perché questi ragazzi si potessero incontrare, dialogare e socializzare. Avevamo parlato di borse lavoro, avevamo parlato di cooperative, da impegnare questi ragazzi perché questi ragazzi hanno bisogno dell'aiuto della nostra società per poter guardare il futuro con molta più tranquillità. Ma anche per mensa dei poveri e assistenze più bisognosi, le parole di Giovanni Muccio censurano il sindaco di Sernia. Avevamo detto di creare questa mensa per i poveri perché la situazione è drammatica, intere famiglie che non hanno lavoro, persone che hanno difficoltà a mettere il posto in tavola, troppe parole e poi i fatti nulla. Guardate cari cittadini, io sono venuto qui perché il guerriero Sannita, se prende un impegno, vuole portarlo fino alla fine. e quindi vuole essere uno stimolo, un appello al sindaco perché da oggi guardi queste fasce deboli della nostra società e porta avanti le promesse fatte al popolo assieme al guerriero Sannita.